Ragazzi buongiorno, stamattina sono qui lungo il fiume Simeto, sto andando a piedi in un punto in particolare che ho trovato ieri, ieri ho fatto il primo sopralluogo qui sul posto, sono a Ponte Barca e ho trovato un punto interessante dove mi sono sdraiato a terra così semplicemente perché non avevo portato niente con me. A parte la macchina fotografica e il treppiedi e sono riuscito comunque a fare buoni scatti, quindi stamattina ci sono tornato più attrezzato, che ho il mio capanno nuovo, quello che mi permetterà di fare scatti raso terra e penso di potermi mettere anche quasi a bordo acqua, quindi spero di fare scatti ancora migliori rispetto a ieri. Io ho un po' di strada da fare, ce ne avrò per altri 10 minuti e un quarto d'ora se mantengo questo passo. C'è un caldo pazzesco, ci sono 28, quasi 29 gradi e sono ancora alle 6 e 10, ma la vedo dura a resistere dentro il capanno oggi. Guardate un po', che posto spettacolare, ecco il punto dove mi devo andare a fermare io, ora. Guardate un po' di spettacolare, ecco il punto dove mi devo andare a fermare io. Guardate il posto meraviglioso dove mi trovo, ho montato qui il capanno, sono quasi in riva all'acqua, lì è troppo infangato per mettermi lì col capanno. Ok, vediamo un'ospirazione. Grazie. 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 Sono le dieci e il caldo inizia ad essere intollerabile. Le temperature sono già alte fuori. immaginate dentro questo capanno che è completamente esposto al sole spero di riuscire a resistere almeno un'altra mezz'oretta perché sto facendo veramente tante tante foto e tanti video alla fine il meglio l'ho fatto di primo mattino perché la luce era fantastica adesso sono le 10 quindi la luce non è un crank però ci sono soggetti che si avvicinano abbastanza quindi qualche scatto interessante sicuramente sta uscendo fuori grazie a tutti grazie a tutti qui dentro un forno non si resiste arriva del momento in andare via a tutti 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 a tutti